Altre notizie Dal 20 aprile al 25 maggio 2012, 23 artisti espongono a Palazzo Lascaris la loro interpretazione delle radici della democrazia. La rassegna, arrivata alla sua quarta edizione, è organizzata dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione, con lo scopo di affrontare, attraverso l'arte contemporanea di pittori, scultori e incisori piemontesi, il complesso argomento della democrazia. La mostra espone opere di una decina di maestri, compreso Francesco Tabusso, mancato recentemente, nati prima del 45, che da ragazzi hanno avuto a che fare con la guerra e la resistenza e ne hanno una memoria diretta. Presenti anche opere di artisti nati tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, che hanno vissuto l'esperienza dell'affermazione della crescita della democrazia nell'Italia del dopoguerra.